La procura di Padova ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio. E' questa la pista più accreditata per la morte del 15enne Ahmed Jodier, scomparso da casa lo scorso 21 aprile, trovato cadavere martedì mattina nelle acque del Brenta, all'altezza della passerella pedonale che collega il quartiere padovano di Torre con il comune di Cadoneghe. Sul corpo del ragazzo non sono stati rilevati segni di violenza, ma sarà l'autopsia a chiarire con precisione le cause del decesso. Le indagini si focalizzano sull'ultimo messaggio vocale inviato dal 15enne all'ex fidanzatina, nel quale diceva di avere delle questioni da risolvere e che sarebbe morto. La questura sta scandagliando tutte le frequentazioni del giovane, le compagnie e gli amici, per capire cosa sia accaduto la sera in cui si è allontanato facendo perdere le sue tracce. All'appello manca ancora la bicicletta rossa utilizzata da Ahmed la sera in cui è scomparso. La bici non è ancora stata ritrovata. Il cellulare del giovane invece è stato trovato casualmente da un passante che credendolo smarrito lo ha raccolto sostituendo la sim. Il ritrovamento è avvenuto proprio lungo l'argine del Brent, dove poi i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di Ahmed. A settembre un altro 17enne residente a Cadoneghe aveva scelto questo luogo per togliersi la vita. Anche in questo caso la famiglia non aveva mai creduto all'ipotesi di suicidio e quindi sembra sempre più plausibile l'altra ipotesi, quella di istigazione al suicidio. Ed è su questo che sta indagando la procura di Padova. La passerella pedonale è tristemente nota perché nel settembre del 2021 un 17enne di Cadoneghe, Henry Amadusen, ha perso la vita anche lui in circostanze misteriose e molto simili a quelle di Ahmed. Anche nel suo caso la famiglia non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio. Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ora chiede che la passerella venga messa in sicurezza per evitare altri episodi drammatici. Ci sono delle iniziative che noi comunque avevamo in programma e stiamo attuando e avranno sicuramente un'accelerazione, che sono quella della copertura integrale o la videosorveglianza di quell'area territoriale. Il programma abbiamo già presentato a fine dicembre al prefetto. Poi c'è l'altra questione che è la passerella. La passerella che nasce negli anni 50 all'Italia era completamente diversa, le esigenze erano diverse, gli utilizzi, gli usi anche. Lì andrò a contattare il comune di Padova e ne parlerò anche con il prefetto per integrare l'attuale passerella con delle ringhiere laterali che si utilizzano in quelle infrastrutture dove maggiore è il tentativo di suicidio o le morti sono maggiori.